se sono buone queste fiole quale poi mi ha guardato come una pazza ciao ragazzi la mia spesa oggi che sono andata alla coppia perché di solito vado a comprare il pane ma non in tutti i negozi della coppia in questo negozio qua nel buono allora vado a prendere il pane visto che ho preso anche un po di chicchi di caffè risotto milanese che mi faccio adesso ho preso delle bistecchini queste qua poi ci sono anche le hamburger e poi ho preso anche questo tono qua è che ho un filetto di scotone per mia presuna giustamente queste cose qua adesso le metto dentro freezer queste fiale qua adesso le provo poi vi faccio sapere com'è ragazzi guardate come si applica questa scatola qua c'è praticamente così ho chiesto alla farmacista se sono buone queste fiole qua perché ho visto che ci sono diverse ci sono anche quelle che costano anche meno però ce n'erano solo 10 10 fiale praticamente a quel prezzo che questo ci sono 21 infatti anche lei mi fanno guarda vc è proprio vicino vc è proprio buono ma moltissimo proviamo ragazze perché ho perduto tantissimi capelli in questo momento qua e ne avevo proprio bisogno ecco vabbè questa cosa guarda il giorno poi dopo sei settimane e ciao a tutte ragazze allora sono andata a fare un po di spesa fatto una spesa nei supermercati diversi intanto vi faccio vedere le cose che ho comprato all'euro spin perché ho comprato anche la carne che voglio mettere subito dentro e cominciamo con euro spin allora ho comprato insalata gentile che a me piace insalata gentile queste sono tutte le cosine così niente di niente di che ecco ho comprato orzo il farro secondo me conviene comprare euro spin queste cose qua ho comprato le carote iniziali integrali che mangio solo io e l'uovo fresche ecco a ho comprato infatti ho comprato macinato misto questo qua che avevo già provato e nuovo posso dire che buono poi ho comprato le mozzarella di bufala lo speck e il prosciutto di parma, ne ho presi due poi ho comprato il petto di pollo guardate quando ho comprato il petto di pollo che non sia grigio, che sia un po' più un colore giallo così che è più buono poi ho comprato le sovracosce di pollo sempre a Eurospit poi ho comprato lo speck questo quando faccio la pasta uso sempre questi qua dopo ho preso anche la pancetta dolce un altro speck prosciutto cotto e poi ho preso anche la salsiccia che così faccio il ragù con la salsiccia mescolo tutto insieme io che così viene un po' più buona ecco adesso queste cose qua le metto dentro al frigo e dopo le metto a posto intanto le metto dentro al frigo perché da un po' più sono fuori frigo perché ho fatto tantissimi giri dopo adesso vi faccio vedere tutto ho preso ho preso la pasta integrale che mangio solo io questi sono così ho preso anche due birre un po' questa la birra la compro ogni tanto ma più che altro d'estate ecco non l'ho preso ho detto vabbè prendo anche la birra allora poi ho preso i peperoni i pomodori i citrioli poi ho preso un secchetto di mele queste qua c'è scritto tra l'altro c'è scritto il bin marlens e per me sono proprio tantesche queste secondo me sono buone ah poi ho preso anche il tonno ho preso questo qua ragazzi vi dico oggi visto che ho mangiato a lavorare ho fatto la mattina ho mangiato a lavorare e c'avevo il tonno però c'avevo il tonno dentro la scatola però quando anche se a scadenza andava non so scadeva tra due e tre anni però quando l'ho aperto non mi piaceva molto l'odore non so c'aveva un odore strano allora ho detto no basta non compro più questi qua compro questi di tonno che mi dà più fiducia nel tonno fatto così perché non so cosa c'è dentro ecco non anche perché qualcuno si è già si è avvelenato con il tonno allora non vorrei che non voleva avvelenarmi anch'io niente dopo ho preso anche questo qua il pesto al giornovese non so come non ho mai provato a me piace tantissimo il pesto al giornovese lo assaggio dopo vi dico come ah niente dopo ho preso anche questi questa vitamina qua sono 20 comprese di vitamine ecco e praticamente in tutto ho speso 64 euro allora dopo sono andata all'idl vi faccio vedere quello che ho comprato intanto incomincio con queste che devo mettere in pentofligo allora ho preso gli occhietti alla tirolese non so come sono però non si trovano anche da tutte le parti queste qua io le ho assaggiate per la prima volta avevo un'amica che tra l'altro ha vissuto per un po' di tempo su un trentino e le ha fatte lei le compre ecco aveva fatto burro salvia però erano buonissime e niente ho visto il Lidl e li ho comprati ecco secondo me le assagiamo ecco secondo me sono buoni ah e dopo sempre al Lidl ho comprato questi panni qua che costavano un euro qualcosa adesso non mi ricordo ho comprato ho fatto un buon scorta della pasta ho comprato questi qua i cattolini i fusili e tra l'altro solo lì li trovo confezioni così grandi adesso ci sono confezioni talmente piccole ti fanno pagare un sacco di soldi e poi secondo me anche i prezzi sono aumentati tantissimo di barilla allora sempre barilla anche qua sono tortiglioni scusate e poi ho preso anche i spaghetti io compro sempre il numero 5 i spaghetti anche qua da un chilo così faccio un po' di scorta e poi dopo visto che mi si è rotto il mix ragazzi ho trovato questo qua c'è un sacco di roba non so se vi serve qualcosa Lidl c'è un sacco di roba tipo elettrodomestici da cucina tantissime cose questo non so neanche com'è adesso voglio vedere com'è il mio che ho avuto ma sarò più di 17 anni secondo me si è rotto adesso e poi ho pogato anche poco ecco vediamo questo qua com'è allora esteticamente mi piace un po' pesante però mi piace esteticamente color bianco ci sono anche i suoi pezzi che tra l'altro io uso solo quelli delle queste qua queste per impastare non uso mai impasto sempre a mano e questo vi dico cosa costa forse vi interessa costa no questo è dell'asso lunga costa no non è qua è un altro scumprino scusate ecco perché sono andata anche l'asso lunga dopo sbattitore 19,99 20 euro allora sempre all'idea l'ho comprato anche le patatine queste qua classiche di sentarlo poi ho preso il croissant per Andrea questi qua in ciliegia ho preso guardate qua ho preso questi rotoloni di carta di genita che vi dico cosa costa 7 euro qualcosa però sono tantissime pesa un sacco 7,99 viene e se ne sono 2,3,4,5,6,6,7,8,9,10 sono 20 sono 20 allora andiamo avanti poi ho preso i biscotti ragazzi i biscotti più buoni sono quelli della Lidl sono più buoni quelli che anche quelli di marca questi sono buonissimi poi ho preso questi qua i panetti croccanti non so come sono li assaggio ho preso un po' di funghi porcini costava un euro qualcosa ho detto beh 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 non so per fare le bistecche o per fare un po' di risotto va benissimo ecco ieri avevo comprato un po' di caffè però sapevo che vado a Lidl a comprare un caffè che è un po' più grande questo ho preso questo e poi ho preso anche questo qua che ho fatto un po' di scorta ogni tanto mi piace andare in negozio fare la scorta e poi dopo ciao oggi pomeriggio sono passata in supermercati così che poi alla fine ci ho messo due o tre orette ecco però per adesso per un po' sono a posto ecco dovrò andare al supermercato prendere due o tre cosini quello che mi servono ma fresche visto che mi sono dimenticata a prendere la panna all'Eurospin quando sono andata poi ero in fila ho detto beh 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 ormai prendo da altre parti la panna ho preso la panna a Lidl dopo ho preso i bastoncini in cotone questi qua che le ho finite sono carini adesso fanno in cartoncino in cartone sempre a Lidl e poi ho preso anche il collutorio questo qua sempre a Lidl poi ho comprato questo qua visto che anche la taglia su un altro canale pubblicato che ho comprato questo ho detto prendo lo provo con me anche se non ho tantissima fiducia ragazzi quando vado lì compro sempre questi citrullini qua ho questo per fare anche non so li uso anche per fare l'insalata l'insalata russa ecco queste qua queste sono buonissime non san di aceto come quell'altra a me con troppo aceto non mi piacciono allora la stessa cosa per quanto riguarda anche i peperoni anche i peperoni questi sono buoni non sono tanto grassi come come quegli altri poi l'avevo finito anche i dadi li ho comprati sempre a Lidl poi ho preso Lidl anche questo queste sono sempre le vitamine sono 20 comprese di prezzo più o meno uguale come a quello dell'Eurospin ecco poi ho preso anche le patate alle Lidl e poi il waffle niente ragazzi qua invece ho comprato il basilico qua invece sono andata a Lestelunga ho comprato il basilico poi ho comprato un sacchettino questo qua da mettere il formaggio da un po' che lo volevo prendere poi ho detto beh ma si dai lo prendo costava 9,90 euro però perché il formaggio lo tengo sempre dentro il cotone però dopo un po' diventa brutto cioè non mi piace allora ho detto beh quasi quasi lo prendo l'ho comprato poi ho preso i bocconcini questi qua che sono buonissimi ne ho preso due poi ho preso i mirtilli che costavano un euro qualcosa adesso li lavo poi li metto dentro il freezer poi se mai quando mi serve ce l'ho già la stessa cosa per quanto riguarda anche il basilico adesso il basilico lo uso un pochettino ultima volta ho provato a asciugarli per bene li ho lavati li ho asciugati per bene e li ho messi dentro la scatola di plastica li ho messi dentro il freezer e mi si sono ghiacciati uno ad uno non si sono non si sono tutti attaccati ecco li ho usati e direi che come metodo va benissimo così ecco anche questa cosa qua la faccio sempre come ve l'ho detto lo lavo e poi lo metto dentro il freezer poi già che ci sono inizia che c'ero al silunga ragazzi questi datri qua sono buonissimi adesso queste cose qua che vi farò vedere giustamente li nasconderò queste sono buonissime anche questa frutta secca anche questi sono buonissimi tra l'altro adesso ci sono tantissimi sconti a restare lunga vi conviene farlo speso adesso lo dico su queste cose qua allora queste qua poi ho comprato mi sto già preparando per Natale ragazze ho comprato il il torrone questo qua a noi piace quello morbido questo con mandorle e pistacchi e poi di questa marca qua Vergani non so se si dice così Vergani o Vergani secondo me sì no Vergani no e poi ho preso anche questo di sperlare sperlare queste sono quelle più buone sempre tenero anche questo e questo mandorle a pistacchio un altro torone questo anche questo tenero e pistacchi dopo ho preso l'indoor questi qua scontati anche questi ho preso tutte le cioccolate ragazze che sono già fatta la scorta per il Natale dai mi sto sto facendo un video qua e questo è lo straccio del formaggio sì puoi buttare via ma non lo lavi ciao Andrea Andrea vuoi una cioccolata per il tre ho preso il cioccolato allora dopo ho preso queste qua di sperlare la cioccolata con con le nacciole intere mi piace tantissimo ho preso due allora aspettate tutte le terrasie a tutto l'identitrice anche questi erano in promozione allora questo l'unico che non era in promozione che mi piace che ho preso ho preso all'altra cioccolata sempre per Andrea poi ho preso una nocciolata noci arachidi noci arachidi anche quelli sono scontati poi ragazze ho preso queste qua di felice azzurra detersivo era scontato detto ne approfitto le prendo perché costavano pochissimo e poi ho preso anche questo detersivo qua anche la prima volta che lo vedo e questo è per i cappi il bucato classico ho visto che c'erano anche per i cappi scuri però non so com'è se ce ne apriamo voglio sentire anche com'è l'odore non capisco sa un po' di sapore è un odore che non si capisce più bene com'è sa di un po' di morsiglio un po' di un po' di erba non capisco comunque sa di pulito proprio vi farò sapere com'è allora e qua invece le ho comprate tantissimi dolci ma adesso li devo nascondere perché visto che a me ha già visto cosa ho comprato devo andare a nascondere tutto perché tutte le cioccolate tutte quelle cose li ho comprate per il Natale per Natale per le feste che saranno mi sono già messa avanti perché anche a Natale mi sa che vado a lavorare dopo avrò pochissimo tempo allora mi metto sempre avanti l'unica cosa che ho comprato che mangiamo questa sera infatti ho detto stasera mangiamo le pedine perché visto che è venuto tardi così faccio prima poi mi ha guardato come una pazza anche se lo sono però allora ragazzi vi dico cosa costa allora i toroni secondo me saranno 40% di sconto sono tantissime cose che veramente sono scontatissime sicura anche allora felce azzurra felce azzurra del 40% di sconto che costa 1 euro 32 per quelli che sono andate lì poi li prendo perché 1 euro 32 secondo me è un buon prezzo quell'altro invece sapone sapone liquido per il bucato invece costa 3,98 questo qua vi dico non lo so guarderò com'è niente se volete fare la spesa già per natale vi consiglio andare ad essi lunga ho visto che anche vanish ad essi lunga era scontato solo che ero con una borsina senza senza niente ho detto no basta già per oggi ho già dato ecco non compro nient'altro però questi non li potevo lasciare lì ecco perché non vado ad essi lunga spesso vado ogni tanto bene ragazzi il mio video ha essi lungo speso tantissimo ho speso 89 euro però mi sono messo un bel po' avanti ecco tutti gli anni comunque tutti gli anni l'essi lunga prima di Natale mette tantissimo mette tutte le cose in sconto se andate in un altro supermercato tipo nocciolato anche quell'altre con gli altri dolci non li trovate mai nel sconto invece se lunga li fa sempre bene ragazzi con questo io adesso vado a mettere tutto a posto e ci vediamo ti vi saluto e ci vediamo la prossima volta ciao ciao a tutti